Per il centro-destra Ettore Romoli, sollecitato a più riprese dal radicale Pietro Pipi, annuncia quella che nelle intenzioni vorrebbe essere un'azione di contenimento dei costi della politica. Lascerà nelle casse del Comune la sua indennità di fine mandato, circa 25.000 euro. Senza però rinunciarvi, si riserva di ritirarla più avanti a sua discrezione. Rimane nelle casse comunali congelata fino a che questa crisi economica non sarà passata e il Comune ritornerà nella pienezza delle sue disponibilità finanziarie.